Avantech Group SRL Avantech Group nasce nel 1999 con il preciso obiettivo di sviluppare e divulgare, attraverso un percorso innovativo, sistemi customizzati per soddisfare le aspettative del mercato nell'ambito della strumentazione analitica per laboratori chimici e di controllo di processo. Concessionario Shimazu Italia, per il Sud, per la strumentazione cromatografica e spettroscopica e distributore esclusivo Teledin Techmar, Avantech Group SRL è un'azienda leader nella realizzazione di soluzioni personalizzate per ogni esigenza chimico-analitica, chimica-clinica, ambientale, agroalimentare e petrolchimica e dispone di tutte le professionalità e le competenze atte a fornire un supporto globale. Avantech Group SRL è un'azienda che si occupa di strumentazione analitica per laboratori. Nell'ambito del progetto PODNA iLife, l'Avantech Group ha il compito di fornire della strumentazione ad elevata tecnologia, opportunamente ingegnerizzata agli scopi. La strumentazione analitica che viene utilizzata per questi tipi di processi sostanzialmente è costituita da gas cromatografia interfacciata con il spettrometro di massa e cromatografia liquida anch'essa interfacciata con il spettrometro di massa, che diciamo attualmente sono le tecniche analitiche tra le più all'avanguardia per l'individuazione di parametri e composti di interesse alimentare nutraceutico e farmaceutico. All'interno di questo progetto Avantech Group ha realizzato all'interno del suo stabile un laboratorio di ricerca e sviluppo e di supporto alle applicazioni necessarie per il progetto PODNA iLife. Questo ha lo scopo appunto di definire una nuova riferimento per quanto riguarda una tipologia di analisi da effettuare nel settore della nutraceutica, cosmoceutica e alimentare in genere. Questo strumento è uno spettromido di massa a trigo caducolo che è associato a una cromatografia liquida ad alta prestazione. Le potenzialità di questo strumento sono molto elevate, infatti esso consente la determinazione di analiti a bassissime concentrazioni, nell'ordine di parti per milioni e parti per bilioni. L'obiettivo della nostra azienda è quello di migliorare attraverso il proprio know-how le potenzialità di questo strumento. Questa è la colonna cromatografica che è associata allo spettromido in massa. All'interno della colonna avviene la separazione degli analiti che sono presenti all'interno del campione. Il campione viene posizionato all'interno del rack, questo qui, in questo modo, dove un autocampionatore permette il prelievo di quantità nell'ordine di microlitri. Una volta inserita la provetta è possibile far partire l'analisi tramite l'utilizzo di un software collegato a un pc. Come potete vedere dall'immagine, dallo schermo, ciascuna la vita è rappresentato da uno picco cromatografico. Questo è uno spettroletto di massa a tricoverpolo associato a una cromatografia in fase gassosa, che rispetto alla cromatografia in fase di vita che abbiamo visto poco fa, è più dedicato all'analisi delle sostanze volatili. Avantech Group SRL